Ben trovati con la nostra rassegna stampa. Iniziamo dunque ad analizzare i titoli dei nostri giornali, quelli locali che purtroppo si aprono con il tragico fatto di cronaca successo ieri mattina sulla Isernia Castel di Sangro. Si tratta di un incidente, scontro frontale, un morto e due feriti. Vittima un medico di 52 anni, sono gravi il figlioletto di Otto e una donna di Acquaviva di Isernia. Pauroso schianto fra auto sulla Isernia Castel di Sangro all'imbocco di una galleria. Ancora cronaca, termole armati fino ai denti assaltano e svaliggiano gioielleria al San Nicola, attimi di terrore al Follie d'Oro. Altro furto ai farmaci anticancro al Cardarelli di Campobasso, c'è la mano di una holding criminale. Pietra Catella, accertamento dei lici sull'eolico, 350 mila euro al comune, la somma che pretende il sindaco dal gestore del parco. Sanità e guerra tra fratture e il subcommissario abusivo Rosato. Le sue sono ingerenze inaccettabili. L'incarico è scaduto il 31 dicembre del 2012. Ancora politica ultimatum sull'esecutivo allargato. Economia, Molise e CNR consolidano l'intesa. Apre il primo centro di ricerca. Ha firmato ieri l'accordo con il numero uno dell'Istituto Nicolaes. Regione e l'aggiunta taglie vigilantes nelle sedi senza assessori. Andiamo allo sport del quotidiano Lega Pro. Campobasso deferito, penalizzazione nel prossimo campionato. Per quanto riguarda la cessione della società, oggi Di Palma sarà in comune e poi dal notaio Giordano. Ecco il Memorial Scorrano, domenica in campo, Aururi per ricordare il capitano. Passiamo adesso alle pagine interne. Subcommissario invadente, frattura, accusa Rosato. L'incarico del manager è scaduto lo scorso 31 dicembre. Il presidente e le sue sono ingerenze inaccettabili. Conti in rosso al lavoro la commissione. Si è insediata ieri mattina in consiglio regionale per far luce sul buco da 1 miliardo e 200 milioni. Spese a Palazzo Moffa tremano 12 gruppi. Ci sono infatti altri 12 gruppi che a Palazzo Moffa sono in attesa di ricevere i verdetti della Corte dei Conti sulle spese sostenute nel 2012. Spending review sui vigilantes delle sedi regionali. 7 unità dell'Aquila a rischio. Il risparmio è di 300 mila euro annui. Quinto assessore, Cotugno lancia l'ultimato ma frattura. Il consigliere di rialzati Molise sbotta alle parole e faccia seguire i fatti. In Molise è un nucleo del CNR. Il governatore sarà un punto di partenza di ogni attività imprenditoriale. Il numero uno dell'istituto di ricerca Nicolais si creerà massa critica sul territorio. Turismo Sansone sollecita ascoltate solo le nostre idee. Non vogliamo chiedere soldi ma solo che le nostre idee vengano ascoltate prima di fare qualsiasi passo che riguardi il mondo del turismo. Riforme dei Camilli sull'occasione che non può andare persa. Oggi è la giornata mondiale dell'infanzia vittima di violenze. Spostiamoci adesso a primo piano. Ovviamente stessa apertura del quotidiano. Schianto sulla 17 e medico perde la vita. Eugenio Trione, 52enne e venafrano, è deceduto sul colpo. Con lui viaggiava il figlioletto ricoverato al Veneziale in gravi condizioni. Il frontale nei pressi di Forlì del Sagno. Improniosi riservata alla donna di 29 anni che guidava l'altra auto coinvolta. Campobasso colpo da 100 mila euro alla farmacia del Cardarelli. La banda dei medicinali di nuovo in azione. Trafugati fiali antitumorali da piazzare sul mercato nero. dell'est. Ancora cronaca termo di rapina a mano armata nella gioielleria del San Nicola. Mascherati da gorilla svuotano le vetrine e si dileguano col malloppo. Il colpo viene messo a segno intorno alle 14 di ieri pomeriggio. Polverone sulla sanità. Frattura sono io l'unico commissario ad acta. Il governatore sfratta Nicola Rosato. Il suo incarico è scaduto il 31 dicembre. Colle d'Anchise cade dalle scale 53enne. Muore poi in ospedale. Boiano salta il tavolo a Roma. Cresce la preoccupazione dei lavoratori GAM. Agnone. Tassa di soggiorno. Il silenzio del comune si fa imbarazzante. Lo sport di primo piano lega pro. Lupi il giorno di Di Palma. Intanto arriva il deferimento. Domenica Aururi. Memorial Scorrano. Sarà parata di Big Parpiglia. Intitolare di lo stadio Selva Piana. Passiamo alle pagine interne. Quinto assessore Cotugno all'attacco. Il capogruppo di Rialzati Molise. Bene il messaggio di Frattura per il 2 giugno. Ora i fatti. L'ingegnere spiega l'astensionismo dilagante. Cittadini sfiduciati perché la loro scelta spesso non trova rappresentanza. Annullamento e scranni contesi. Ricorsi sulle regionali 2013. Il 13. L'udienza Altar. Ricerca applicata all'impresa. Arriva il CNR. Intesa raggiunta fra Nicolais e Frattura. L'incontro si è tenuto in Via Genova. Soldi alla casta. Costruire democrazia. Danone spese ammissibili e rendi contate. Fermo pesca e caro carburante. Le proposte del tavolo azzurro per il settore ittico. Sanità. Frattura mette alla porta. Il subcommissario. Il governatore sfratta Nicola Rosato. In carico scaduto il 31 dicembre. E mai prorogato. La regione in piano di rientro diventano virtuose. In Molise la spesa scende dell'1,6%. Indagini sui conti al Via e lavori della commissione. Giuseppe Sabusco, presidente dell'organismo. Acquisteremo gli atti. Poi il confronto con chi li ha redatti. Palazzo Chigi è impugnato i documenti di bilancio. Dubbi su 1,3 miliardi di residui attivi. Bene, guardiamo adesso insieme il quotidiano informatico. Informa Molise. Perché il gelato al limone del gruppo consigliari viene scoperto solo oggi. Andiamo in primo piano. Commissione di indagine Monaco in Manzo. Protocollata richiesta accesso atti. Insediata la commissione di indagine sullo svolgimento delle politiche finanziarie di bilancio della Regione. Il primo nucleo del Consiglio nazionale delle ricerche in Molise, intesa fra Nicolais e Frattura. Rapina a mano armata nella gioielleria del Carrefour. I lavoratori GAM chiedono la rimozione del capo del personale. Consiglio dei Ministri più ecobonus per case e arredo e stop ai finanziamenti ai partiti. Bene, continuiamo con i fatti del nuovo Molise. Frontale muore medico. L'incidente su Lisernia Castel di Sangro. Ferite gravi per il figlio di otto anni e una donna. Sanità, Frattura fa la voce grossa. Non firmo i decreti. Il governatore disconosce il subcommissario Rosato. Sono inaccettabili le sue ingerenze. Non ha più titolo. Regione, sede di via Genova, intitolazione e dibattito. Isernia, provincia Mazzuto, verso l'azzeramento della giunta. Pesche, le mamme non vogliono più il loro parroco. A Venafro c'era una volta la casa per gli anziani. Intanto a Termone è stata inaugurata l'area parco riservata ai cani. Sanità, Frattura disconosce il subcommissario. Questa è la seconda pagina dei fatti. Inaccettabili le ingerenze di Rosato. Non firmo i decreti. Lavoratori gamma alla regione. Rimuovete il capo del personale. Quinto assessore. Avvertimento di Cotugno. L'esponente di rialzati Molise. Spero che alle parole seguano i fatti. Frattura propone Vitale. Si apre il dibattito. Ci sono anche Duva, Daimmo e Cola Giovanni. Lettera aperta al governatore per valutare anche gli altri esponenti storici della politica. Spostiamoci al tempo. La pagina che riguarda il Molise. Ovviamente d'antica apertura di Cronaca. Schianto frontale muore un medico gravemente ferito. Il bambino di 8 anni e la donna alla guida dell'altra auto. Eugenio Treone, anestetista di 52 anni, stava accompagnando il figlio. A scuola. Per il minore interventi chirurgici in due diversi ospedali. Termoli armati e mascherati rapinano la gioielleria. Montenero di Bisaccia esce in giardino a prendere il sole e viene morsa da un serpente. Il CNR porta in dote l'alta formazione. Entro luglio arrivano ricercatori e scienziati per sviluppare progetti innovativi. Per quanto riguarda i quotidiani locali è tutto. Passiamo dunque alla stampa nazionale. La Repubblica. Eternit una condanna storica. Pena più dura per il disastro ambientale. Maxi risarcimento da 92 milioni. In appello 18 anni al magnate svizzero. Guarigniello. Una decisione che farà scuola. Le vittime. Ma sarà difficile ottenere i pagamenti. Il filo che unisce i killer di Londra alla tirannia di Damasco. Bossi Maroni tradisce. Guido io. La Lega intervista al senatore. Faremo un referendum per la padania libera. E intanto fonda anche un suo giornale. La rivolta delle madri di coraggio che spaventa il potere di Pechino. Sul diktato sul figlio unico alla legge antimamme single. Cresce la protesta rosa. Assange processa i re di Google. Siete gli imperialisti della rete. L'attacco del fondatore di Wikileaks sul New York Times. Il Corriere della Sera apre con il lungo dibattito sulle riforme. Napolitano spinge. Un disegno di legge costituzionale entro pochi giorni. Vertice con Letta e Alfano. Epifani contro i partiti personali. Sono antidemocratici. La foto fa riferimento ovviamente al processo per l'Ethernet. Condanna più dura per il Magnate Svizzero. Ma risarcimenti a rischio. Disastro doloso in seguito alle morti per Amianto. Ora inizia la battaglia delle parti civili per gli indennizi. Istanbul non cede a Erdogan. Monito del premier alla piazza. Due morti. Centinaia di feriti. Milano per Eira favorito nella corsa alla scala. Oggi il CDA potrebbe indicare il nuovo sovraintendente al posto di Lissner. Il messaggero. Riforma. Letta nomina i saggi. Vertice da Napolitano. Il governo intanto accelera. In settimana super esperti e nuova commissione. Presidenzialismo. Scontro nel PD. Grillo attacca Colle e Cavaliere. Vuole fare il duce d'Italia. Scontri a Istanbul. Si allarga la rivolta. Due morti in Turchia. Oltre 1700 arresti. Auto contro la folla. E qui il messaggero ha messo anche una pagina. Una foto. Chiedo scusa. In prima pagina. Il retroscena. Alfano Alquirinale. Se la consulta boccia Berlusconi. Tavolo a rischio. Razzismo. Frasi anti-Keynge. Borghezio espulso dal suo gruppo dell'Unione Europea. Chi rifiuta il lavoro perderà il sussidio. Cambiano i centri per l'impiego potenziati. E in arrivo nuove regole. Commissario vicino. Ilva. Gli impianti sbloccati dal GIP. Gestione separata. La stampa apre con la condanna storica all'Eternit. Morti di amianto. 18 anni all'imprenditore svizzero. E 30 milioni alla città di Casale. La corte di appello di Torino infligge. Due anni in più a Shimdey. Un disastro doloso che continua ancora. Riforme e pressing di Napolitano sul governo. Mi aspetto. Scelte serie. Grillo attacca intanto sul presidenzialismo. Vertice al colle con Franceschini e Quagliarello. Peggiorano i conti. Fa bisogno su di 20 miliardi. Allo studio l'aumento del bollo auto. La corte dei conti. Lotta all'evasione ondivaga. Redditrometro inefficace. Il tempo. Controordine. Nel redditrometro è un fiasco. Corte dei conti. Favorisce acquisti nero dei primi consumi. E non frena l'evasione. Confindustria chiede di finanziare l'abolizione del limo. Con i tagli alla spesa pubblica. Draghi vede la ripresa entro l'anno. Il FMI corregge le stime. E la Germania frena. Le previsioni eterne della CGL sulla crisi. Ghedini va all'attacco. Infastidiamo i giudici. Naturalmente si tratta del processo Rubi. Maxi truffa l'Inps. In cella anche due legali. Raggiro per 22 milioni di euro. Spostiamoci a Libero. Ecco cosa succede se usciamo dall'euro. Grandi vantaggi per export e debito nel caso di un'azione concordata. Rischi invece se l'atto fosse unilaterale. Ma anche la Germania ci pensa dunque pro e contro. Mi è venuto il cancro facendo sesso orale. Michael Douglas e la moglie Katrin Zeta Jones. Giudici ostili. La difesa smonta il processo Rubi. Marino aspirante e sindaco confonde Roma e Lazio. Spostiamoci adesso all'informazione economica del sole. 24 ore. Pronte le liste per gli 007 fiscali. Partono i test sul redditometro. Sotto osservazione solo di scostamenti più significativi. Le entrate avviano il sistema dei controlli per il 2009. a confronto, redditi dichiarati e spese accertate. Ilva e il GIP di Taranto dà l'ok dopo due mesi all'uso dell'impianto. Vertice di governo. Ipotesi di Blind Trust. Condanna ai vertici eterni. Tio 18 anni al manager a Svizzero. Il tribunale. Disastro doloso. Danni per 30 milioni. Debiti della pubblica amministrazione. 400 milioni tolti ai fondi di impresa. Tre emendamenti riducono dunque le anticipazioni della CDP. Andiamo al panorama del sole 24 ore. Processo Rubi. Parla la difesa su Berlusconi. Giudici prevenuti. Riforme istituzionali. Il napolitano sollecita il governo. Voglia di istituzioni in 18 mila ai giardini del Quirinale. Bene, passiamo adesso all'informazione sportiva. La gazzetta dello sport. Ecco il patto per il Milan. Allegri Berlusconi. Vi sveliamo quello che è successo nella cena di Arcore. Basta figuracce e gioco d'attacco. Champions primo bivio. Rinforzi spunta Belfodil. Paoligno messaggio all'Inter. Fai l'offerta giusta e io arrivo. Moratti e la trattativa con l'indonesiano Tohir. Soltanto se porta vantaggi. Mercato Nero Azzurro a colloquio con il centrocampista brasiliano. Ranocchio no dentro Astori e Giaccherini. Italia fuori anche Ogbonna. Neymar nel Barça. Delirio al Camponò in 60 mila. Per lui il nuovo gioiello. Mu è del Chelsea e chiede a Schneider. Si presenta a Londra in TV. Blues e Inter. I miei amori. Prometto lavoro, competenza e passione. A Stamford dopo sei anni. Dunque il ritorno. Marchisio via per 30 milioni. Joveti, Celo United. Ci prova. Supercoppa. Lite, Agnelli, Lotito. Pizzicato pure Sant'Ambrogio positivo all'EPIO ciclo del Finato. Vince Viviani. E intanto parliamo di tennis. Nei Serrani, la quarta tenista al mondo, cerca la semifinale. C'è Radvasca, che è la quinta nel scagliere internazionale. Parigi, intanto Schiavone, ieri è uscita. Basket. Siena fallisce il primo match ball. Varese si rialza. Oggi Cantù-Roma. Spostiamoci al Corriere dello Sport. Allegri vuole Lavezzi. Dopo l'accordo con Berlusconi, il Milan riparte con l'ennesima sfida all'Inter. Stavolta per il Pocio. Juve-Lazio. Lite, Supercoppa italiana. Duro scontro su data e sede. Blanca al Roma. Pallotta furioso. È sempre caos nel club giallorosso. Vertice a Milano col francese. Ma il padrone tuona. È l'ora di finirla. Baldini a rischio. Gomez-Fellaini. Stretti il Napoli. Prepara tre colpi. L'annuncio di Zamparini, ovvero Gattuso, allenerà il Palermo. Neymar adesso costa 190 milioni di euro, presentato dal Barcellona. Ciclismo shock. Sant'Ambrogio positivo all'EPO, alla prima tappa del giro. È arrivato Bolt. Roma. Lococcola. Giovedì il Golden Gala. Pistorius, ecco le foto dell'orrore, la scena del delitto dopo l'omicidio. Bene, con il Corriere dello Sport chiediamo qui questo nostro primo appuntamento. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Il meteo è offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanze inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013, visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. Previsioni del tempo per la giornata di martedì 4 giugno. Una circolazione di bassa pressione rimane attiva tra Balcani ed Adriatiche, rinnovando condizioni di tempo instabili sulla regione. Temperature stabili o in lieve calo. Eccole nel dettaglio. Campobasso minima 9, massima 15 gradi. Isernia minima 8, massima 15. Termoli minima 14, massima 19 gradi. Il meteo è stato offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanze inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013, visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013, Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013, Grazie.